Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video In questo nuovo video volevo farvi vedere come abbiamo completato il Kala Gran Maestro di questa settimana ovvero Terminale Intuitivo Abbiamo completato usando un Titano e due Stregoni Il mio Titano ovviamente con l'Ursa Furiosa Ricognizione, Verità Rivelata e Anarchia Ovviamente con Indirrompere e Liberare Mentre con la Middle Tree ovviamente del Titano Ovvero lo scudo, la super centrale Mentre gli altri due miei compagni hanno usato la Strega con la Stasi Con la Torretta e il mio stesso Loadout solo con le Granate Accecanti Al posto di quelle che usavo io perché non le avevo E avevo quelle frontali Mentre l'altro ragazzo usava la Pozza Con ovviamente Protocollo della Fenice E lo stesso Loadout sempre con le Accecanti E niente, io vi lascio al gameplay L'unica cosa che vi consiglio è stare attenti solo magari alla fase, all'ultima fase del boss Perché è quella un pochettino più, diciamo, fastidiosa tra tutte Infatti siamo probabilmente morti un pochettino più di volte in quella fase lì Però basta un attimo di organizzazione e ce la fate tranquillamente E nulla, vi lascio al gameplay Faccio vedere come l'abbiamo completato noi E ci becchiamo al prossimo video Bella a tutti Grazie a tutti che non ho palla veloce ah il barriere è uscito dal cunicolo dove è andata il mio colpo di lancia granate in teoria sì più o meno sì però tipo a me ho completato due trionfi cos'è quelli stagionali ma date due quindi non lo so non credo di aver fatto cinque livelli però dico gli eccelsi no gli eccelsi quelli dell'eververse dopo il spento ogni cinque ogni cinque dopo il spento sì guardo dietro cosa vuoi da me ma perché non si stunna dovevo tirarla se non morivo ma non c***o le faccio vedere ma c'è la vinculum è tutto latino qua i cabal ho una buona notizia è una cattiva darci prima quella buona secondo i Vex Kargen ha quasi il totale controllo sulla rete locale di portali Vex prevedo l'arrivo di diversi cabal nei prossimi minuti no ho detto di darci prima la buona notizia quella era la buona notizia ma cos'hanno con me questi mannaggia ho dimenticato perché ho preso levi sono un deficiente un deficiente doppio aspettavo credo che i centurioni abbiano i mezzi per disattivare il blocco Vex e fornirti cortialmente l'accesso bene il dubbio guarda faccio così faccio un po' di sferette se posso se me le fa corridoio che porta alla stanza ma che nome di merda è allora abbastanza sbocchevole e verdi non me ne dà più ne avevo viste prima ma me le son perse son perse le verdi vabbè i gladiatori tankano più del boss c'è troppo si in effetti c'ha ragione leonert ecco dove erano le special mi colpì di anarchia scomparsi io sto coprendo qua davanti non copro più terzo copro ancora mi si è buggato il tasto raga non mi fa più lo non mi funziona più il mouse no funziona si era buggato raga mi ha tirato una botta e è ripartito vabbè cosa devo fare raga ma io boh non mi faceva più lo scudo specialmente da cambiare sto sto merda di coi porca occhio io son dietro di te ma io non riesci a restare da lì lo prendo però no preparati doc prepara a morire spero di no no son vivo son vivo ma letteralmente ragazzi ho tirato la super non mi non mi faceva non mi faceva tirare la roba mi restano ancora via vediamo se a sto giro a sto giro me lo fa incredibles c'è un po' di sferette guardiano a terra guardiano a terra lo sai si guardiano a terra guardiano a terra vabbè sono morto sotto le ginocchia se ho detto che oggi sto coso ti rompi le caviglie in un mezzo secondo bella Vexim come stai uh che una calmata la gladiatoga primo primo ma perché vabbè ragazzi comunque questa cosa che si bagga la porta all'inizio ogni volta è incredibile me l'hai girato addosso ma non voglio ma perché si è baggata la porta si è aperta la porta ma c'era ancora un muro invisibile hai preso me doc non lo sono sentito sulla testa appunto io ho sparato dritto eh ma se c'ero io davanti no non c'eri tu c'è uno scudo fidati che c'è uno scudo invisibile quando appena appena sblocchi lo scudo c'è un mezzo tipo uno scudo invisibile che non puoi ancora otrepassati proprio per mezzo secondo vedo velo su no no ma non è impegnativo il gm che boh moriamo a caso ragazzi mi sono spaccato una caviglia qua per esempio ha perso quasi tutta la vita da un centimetro cioè capite che non ha senso sono morto completamente a caso dietro di tutti stavo ma boh ecco siamo pensavo che si potesse andare in quello spottino lì sopra invece no ma ha buttato lì sopra in due sì sì ma perché si che Quattro granate Vabbè quel legionario che è andato Questo legionario qua sopra Bella Frank E i gradini ho visti i gradini Che sono I nuovi boss finali I gradini Devo fare un giro di munizioni Finendole Ah quella pozzetta di merda Ma poi che angolo è scusa Se il boss è di là come cazzo fa a prendermi qua La pozzetta di merda Oh jesu Guardiano a terra Arrivo Vado io Vado io Ma che problemi hai Kargen Hai scassato un buru cazzo Io prendo prima questa centrale Vado io Qu'è un buru cazzo Qu'è un buru cazzo Oh my god Sono paura Gladiatori sono la roba più fastidiosa Insieme a Come si chiamano Agli urlatori Bella perciò Gli urlatori sono la roba più fastidiosa Che esiste Secondo me Mi hai soffrito tutto Quella di destra è praticamente presa Faccio così allora Hai lo scudo Dubbio me ne vado Perché Non ce l'ho Poi gagnoli Vedi che qua Non I cani qua Non arrivano Non ho capito bene Sta cosa Mi che l'ho Sticcata qualcuno Cristo santo Ma che cazzo vogliono da me questi Bella luce Ma due parole sul van di Amorant È stata ribannata Guardiano a terra Hai visto il gradiatore Sì Ma che cazzo Mi è scivolato davanti Ma Dicevi dei cani Ma No no Qua Scanna Vieni qua Guardiano a te E il gradiatore arriva però Però qua i cani Non arrivano Non so perché Ok che c'è il gradiatore Poteva stare un po' più I cani 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 Qua non arrivano Qua non arrivano Vedi che non arrivano Retrocedono Non ho capito perché Saranno timidi In quel punto lì Comunque se hanno ribannato Amorant Stasera mi faccio una seg Mi dissocio ovviamente Però Guardiano a terra Vabbè Il cane Sì Di dietro di te Ma quella piastra è Difendibile È imprendibile Quella piastra Amiche non arrivano adesso Ce l'hai la pozza Io ho lo scudo Aspetta aspetta Sì Via Ci ho quasi sfera Non sono il gradiatore dietro Quasi finito Non ho più uni Cioè no In realtà le ho Sono un po' sparse Per la mappa Ma ci sono Vorranno i nostri eroi Io Ma quindi è stata ribannata O no Non ho capito Lucio Cioè oltre il ban Prima delle hot tub È stata ribannata Di nuovo Vinci Stavo per crepare Fare un giro di muni Qui No kargen Non farlo Vabbè riesco Ragazzi Sti gradini Sono Veramente La cosa più Scanna Bullizzato Da tutti quanti Tutti Li che lo push Li sto tirando Tutti qua Io Non muore qualcuno Lì dietro No eh Sì Tiratemi di tutto Baby Servono sfere Ne ho altre Ne ho altre Ok È stato molto interessante Questa Ma non Non mettere il link Di quella prostituta Qua Sto canale Doc Vabbè Sto la troll Evidentemente Bella money Grazie per il follow Caro Sino io Sono dietro Un muro Raga Proprio Letteralmente Eh c'è C'è sì Dove ho Dove ho visto Distraendo il boss Ligaria dovrebbe Morire Ligaria In teoria In teoria Sì Ok Bella Mi hai convinto Money Da cosa Ti ho convinto Dalla frase Quella prostituta Nel registro Di accesso Di concerto M Sung 12 Di Grazie.